Era la notte tra l'11 e il 12 dicembre 2021 quando una banda mise a segno due colpi a Bibiena riuscì a portare via un autocarro e a Corsalone di Chiusi della Verna invece 145 quintali di rame. Il mezzo pesante era servito per caricare la refurtiva d'ingente valore. Adesso i carabinieri hanno stretto il cerchio attorno alla banda con traffici tra il Lazio e la Toscana. Subito erano scattate le indagini con filmati delle telecamere di videosorveglianza passati al setaccio e la raccolta di elementi su episodi simili in altre zone. Tutto fino ad individuare tre persone tra i 25 e i 47 anni residenti a Roma e specializzate in questo genere di traffici. La svolta è poi arrivata quando, anche con l'ausilio dell'elicottero, è stato ritrovato l'autocarro era stato lasciato vuoto a bagno a Ripoli alle porte di Firenze. Derrame invece nessuna traccia. Per i tre indagati adesso è schiattata la denuncia per furto aggravato continuato in concorso.